Sini, Zizzari, Piras e Manganiello. Risponde la squadra ospite, la Fortis Juventus. Francesco Zizzari, il cross dentro, tagliato. Poi svirgola il difensore della Fortis, palla che resta lì. Poi Perugi, la bomba dalla distanza da parte di Magelli. Facchini, lancia in avanti a cercare la rapidità di Piras. Ancora Piras, poi gli frana addosso Galgano. Piras è più veloce, poi attenzione, intervento. Calcio di rigore, vediamo un po'. Sembrava netto il rigore. Vediamo cosa decide Fiorillo. Un po' di confusione, arrivano le proteste anche del pubblico di casa. Dato il calcio di punizione dal limite. Eh sì, non è rigore, ma è calcio di punizione dal limite. Abitro parte Lenzini, il cross tagliato dentro di testa. Facchini, il pallone che si perde sul Foni, chiama il pallone Zizzari. Lo vede Milani, lo serve Zizzari. E adesso, attenzione, forse calcio di rigore. C'è stata la segnalazione dell'assistente. Gelido pomeriggio di gennaio. Siamo pronti per raccontarvi i secondi 45 minuti. Donattini, ancora lui all'indietro per Olivieri. Il cross tagliato di testa. Parte Benvenuti, la punizione che gira. Miracolo del portiere Becchi. Che parata di Becchi. Andare al cross con il sinistro basso dentro per Zizzari. Zizzari, posizione tiro. Zizzari, pallone che fa la barba al palo e va sul fondo. Lancio in avanti, posizione regolare. E la chance per Betti.